Grazie, Dio vi benedica. Vogliamo aprire la nostra Bibbia nella lettera agli Efessini. A capitolo 6 verso 10 è l'ultima parte di questa lettera che mi è stata data a me di trattare. Dal verso 10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dall'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi da aver compiuto ogni cosa. State dunque ritti avendo a vostri fianchi la cintura della verità, rivestite con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Oltre tutto ciò prendendo lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infogati del maligno. Prendete anche l'emmo della salvezza e la spada dello spirito che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera, di supplica nello spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E anche per me affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero del Vangelo per il quale sono ambasciatore in cadene affinché lo possa annunziare con franchezza come è il mio dovere di fare. In questo momento nel mondo ci sono due guerre accese molto importanti. ci sono circa 40 confritte ma due sono quelli che un pochettino ci toccano da vicino, non perché gli altri no, ma sono le due che sentiamo continuamente parlare in televisione, non soltanto nei telegiornali, in tutto quello che molte volte si parla anche nei giornali, eccetera. uno direbbe ma già c'è un mondo che è in guerra, tu questa sera vuoi parlare di un'altra guerra? Ora l'apostolo Paolo alla fine di questa epistola cambia improvvisamente argomento e parla del combattimento spirituale che ogni cristiano ha. Questa sera voglio essere più chiaro in modo che voglio incoraggiare ogni persona, non perché in questi 26 anni non lo siamo stati, lo siamo stati, in un modo che ognuno possa capire e comprendere. Dal verso 10 dice del resto, in un'altra versione dice inoltre. Ora l'apostolo Paolo in questa lettera parla la benizione che credente ha, inizio nel primo capitolo, che noi siamo stati benedetti in Cristo di ogni tipo di benizione, non ci manca niente, abbiamo tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, abbiamo la pace, abbiamo la costanza, abbiamo la vicinanza, abbiamo una prospettiva per il futuro, ha messo la vita eterna nel nostro cuore, Lui è sempre con noi, non ti lascia mai, non ti abbandona, tutto quello di cui noi abbiamo bisogno ce l'abbiamo in Cristo e noi ringraziamo Dio Padre per il fatto che noi siamo in Cristo. E se vediamo le cose per come insegna la scrittura, anche se noi siamo sulla terra in Cristo, noi siamo alla destra del Padre in Cristo, dove Cristo esecita la sua autorità sulla Chiesa e non soltanto perché la situazione del mondo non è scappata dalle mani di Dio. Dio controlla la storia, ma è importante ricordare noi stessi chi noi siamo in Cristo. Eravamo sotto il dominio del diavolo, siamo stati liberati dal momento che abbiamo creduto, ci siamo revveduti, abbiamo chiesto perdono dei nostri peccati, siamo passati da un dominio a un'altra, diciamo, ubbidienza, sottomissione, un altro regno che è il regno di Cristo, ricevendo la cultura del regno di Cristo, ricevendo tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, abbiamo la grazia, siamo stati salvati per questa grazia, non per opere, quindi noi non abbiamo dovuto fare niente per impressionare Dio, abbiamo solo dovuto credere che Gesù Cristo è morto per noi, per ricevere questa salvezza, per grazia, mediante la fede. È un momento in cui siamo salvati e lavoriamo per Dio, è quello che noi abbiamo sempre fatto, incoraggiamo gli altri che devono fare, dei due popoli ha fatto un popolo, c'erano dei misteri che era difficile per l'uomo poterli capire e leggere dentro, ma Dio nella sua misericordia schiude questi misteri, rivela qual era il proposito, il cuore di Dio. Facciamo parte di una famiglia che è la famiglia di Dio, molte volte nel mondo possiamo avere una famiglia spacciata, una famiglia separata, ma abbiamo la famiglia che è la famiglia di Cristo, lui ci accetta, a volte alcuni vengono messi fuori dalla porta dei propri genitori, ma dice anche se tuo padre e tua madre ti abbandonassero, io ti accoglierò. Questo è il cuore di Dio, questo è ciò che noi abbiamo in Dio. Poi ci insegna che dal momento che abbiamo ricevuto questa benedizione, dobbiamo camminare per come lui insegna, che è giusto a noi come credenti, come cristiani, che viviamo nel mondo ma non siamo nel mondo, non siamo soggetti a questo mondo, noi siamo soggetti alla volontà di Dio, siamo soggetti a questa meravigliosa Bibbia, certamente sprediamo i nostri doveri, i compiti, io sono stato per 30 anni poliziotto, quindi ho servito lo Stato, ma nel mio cuore era sempre chiaro che io ero un cristiano e se un domani allo Stato mi avessi chiesto di andare contro la parola di Dio, io non l'avrei fatto perché il regno di Dio, la pace di Dio è nel mio cuore. E un credente, un cristiano, che veramente ha sperimentato Dio, quando gli viene chiesto di andare contro Dio, contro i suoi principi, contro i suoi comandamenti, la bisogna prendere una scelta, fare una scelta, con chi stare? Stare col mondo? Stare con i potenti di questo mondo? O costi quello che costi? Noi continuiamo a servire Dio. Quindi parla di un combattimento, di una lotta. Dice che questo combattimento non è contro i suoi, non è contro uomini, contro donne, non è contro gli umani, ma dice che questo combattimento non è contro sangue, ma è un combattimento contro queste potestà, questi principali. Questa sera voglio fare solo un insegnamento, una predica di introduzione, poi ci sarà la continuazione, quindi parla di un nostro avversario, che non vorrei nominare tanto questa sera, perché non vorrei dargli tanta, diciamo, confidenza, che è Satana, il seppetto antico, l'avversario, che è il nemico della tua anima, è il nemico della Chiesa, ha sempre, diciamo, sviluppato, nutrito questo odio verso Dio e verso coloro che Dio ama, conoscete la storia, le sue origini, come è stato buttato dal cielo, eccetera, eccetera, che non è un uomo, che è una creatura celeste, di un rango superiore, dell'essere umano, il quale ha un odio sviluppato, come dicevo, per la Chiesa, un uomo naturale, penamente naturale, con una ragione naturale, non può capire, e non può entrare nemmeno in conflitto, con forze, che sono celestiali, che sono più forti, più intelligenti, di quello che è l'essere umano, ma noi ringraziamo Dio, perché dal momento che noi siamo nati di nuovo, abbiamo ricevuto la natura di Dio, siamo diventati dei credenti, siamo diventati dei cristiani, siamo figli di Dio, abbiamo la mente di Cristo, abbiamo lo spirito, noi riusciamo a capire, discendere, e quello che io sto per dire, a meno che tu non sia una persona per la prima volta, capite, comprendete il senso, perché negli anni in cui voi avete conosciuto Dio, sicuramente avete avuto di questi conflitti e combattimenti. Sono 38 anni che ho conosciuto Gesù, quindi ho sperimentato il perdono dei miei peccati, la pace nel mio cuore, so di essere stato salvato, che lui è mio padre, che lui mi vuole bene, che mi ama, e lui è sempre per me, attraverso la preghiera, la tua parola di Dio, ho questo rapporto, come ogni cristiano, una relazione, ma devo dirvi che sono 38 anni che combatto e che lotto, perché la Bibbia dice che il credente entra in questo conflitto, in un combattimento spirituale, infatti dice fortificatevi per essere dei buoni soldati. in secondo tumodio, Paolo dice, in tumodio 2 e 3, tu dunque sopporta affrizioni, cioè soffre, deve sopportare i dolori, quello che tu affronti, Paolo l'affrontava, voi lo sapete, era stato menato molte volte, caduto in una cesta, in prigione, la vita dei discepoli, eppure erano persone che amavano Dio, che erano fedeli, ma vivevano queste cose, quindi dice a un giovane discepolo, anche tu sopporta, soffre affrizione, come un buon soldato, la Bibbia dice che noi siamo dei soldati, che tu sei una soldatessa, quindi usa questa terminologia, poi dice nessuno che presta servizio, come soldato, si mischia nelle faccende della vita, se vuole piacere a colui che lo ha arorato, siccome colui che ci ha arorato è Cristo, noi dovremmo sviluppare, non soltanto un'intelligenza, ma dovremmo veramente vivere, per come insegna la parola di Dio, vivere in questo mondo, fare quello che noi continuiamo a fare, ma nel nostro cuore ci dovrebbe sempre essere, la parola di Dio, non dimenticare mai chi noi siamo, quindi siamo dei soldati, noi combattiamo, ma abbiamo anche un capitano, che è Gesù Cristo, combattiamo contro il male, combattiamo contro l'avversario, ma c'è un capitano che è il nostro Signore, se noi vediamo la storia del Vecchio Testamento, della Chiesa, scusate, dell'Antico Testamento, e anche del Nuovo Testamento, questo voglio dire, perché voglio dare un giusto messaggio, per come lo dà la scrittura e la parola, vediamo nell'Antico Testamento, molte guerre, molte conflitti, c'è stato un tempo in cui Israele vinceva, combatteva, distruggeva i suoi nemici, e là erano uomini contro uomini, ma quello era il popolo di Dio, perché i paesi che erano attorno a Israele, hanno sempre cercato di annientare il suo popolo, quindi anche quello che noi vediamo oggi, la storia è sempre la stessa, perché anche questi vorrebbero che Israele non esistesse. Ora non entro nelle polemiche che purtroppo ci sono nell'università e teniamoci distante, ma lasciamo che la Bibbia palle. Quindi anche nell'Antico Testamento la Chiesa combatte, la Chiesa molte volte vince, molte volte perde, quando non è ubbidiente, sottomessa alla volontà di Dio. Se noi andiamo nel Nuovo Testamento e consideriamo gli apostoli, tutti sono morti, tranne Giovanni da martiri. La domanda che io vi faccio, erano apostoli? Sì. Avranno ricevuto un mandato? Sì. Servivono Dio? Sì. E come mai? Erano apostoli, servivono Dio, hanno dato la loro vita. Molti di questi, non soltanto della Chiesa, sono stati costretti ad abbandonare le loro case, le loro proprietà e andare via solo per uno scopo. Cioè, per un motivo, che era quello che amavano Dio. Potevano non amare Dio, rimanere nella loro proprietà, nella loro casa, ma invece subire la persecuzione se volevano continuare a servire Dio. Siccome hanno scelto Dio, c'è stata questa persecuzione, fatta l'apostolo Paolo, non soltanto, Paolo, Palla, le dodici tribù, che erano state disperse, li incoraggia, che Dio aveva dato una speranza viva, che era la speranza della vita eterna, in poche parole, dice, non vi scoraggiate per quello che voi state vedendo, che state passando. Anche attraverso i secoli, la Chiesa a volte ha pagato un prezzo non indifferente. Nerone li cospeggiava di pesce, gli dava fuoco, faceva le feste, i festini, e i cristiani gli davano luce. Quindi immaginate la sofferenza di queste persone. Domanda, erano cristiani? Sì. amavano Gesù? Sì. Ma vissero questa situazione. Dice agli ebrei che molti sono morti di spada, altri sono stati legati ai cavalli e quindi un cavallo venivano da un lato, dall'altro lato venivano proprio squartati, altri venivano segati, come in se io è stato segato. Domanda, erano serviti di Dio? Sì. Amavano Dio? Sì. Hanno soffetto? Sì. Quello che Dio vuole dire, non si può essere cristiani, non possiamo servire Dio se non passiamo anche attraverso la sofferenza, se non padiamo. Quindi, voglio dire, che la guerra tra Dio e Satana, tra il regno di Dio e il regno di Satana, è vinta perché la scrittura dice che Cristo lo ha vinto. Nell'Apocalisse dice che Cristo ritornerà con miride e miride di angeli, il primo lo legherà a Satana, quindi lui ha potere sulla sua forza, sul suo potere, ma dice che alla fine subirà un giudizio lui e tutti coloro che gli andranno dietro. Quindi la guerra è vinta, però molte volte si perdono delle battaglie e a volte noi passiamo non soltanto momenti difficili, ci sono momenti in cui ci sentiamo sconfitti per quello che noi viviamo, passiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Ora questo non è una sconfitta, questa sera è entrata Graziella con suo figlio Antonella, no, sulla sede a Rotelli. Uno, se la guarda, direbbe, ma come, una cristiana, ama Gesù, ama Dio, chissà quanto volte ha pregato su questa ragazza e questa è la sua condizione e potrei menzionare tante condizioni che viviamo all'interno della PDS e vorrebbe molte volte di dire ma dov'è la tua fede, dov'è Dio, come mai noi viviamo queste situazioni, noi viviamo queste situazioni e non è che tu, Graziella o altri vivono perché sono meno voluti bene da Dio perché a volte ci troviamo come stasera abbiamo sentito una testimonianza che uno è davanti e testimonia Dio mi ha guarito e tu hai una malattia hai una situazione che ancora oggi non hai ricevuto guarigione io non mi sento di dire che la tua fede non è sufficiente per ricevere guarigione ci sono cose che non capiremo non comprenderemo mai come gli apostoli molti cristiani sono morte da martire hanno dovuto pagare un prezzo ma una cosa dice la storia che sangue dei martiri non ha indebolito la chiesa ha rafforzato la chiesa quando i nemici della chiesa pensavano di sconfiggere la chiesa accendendo delle battaglie cruente verso il popolo di Dio come per esempio hanno sempre cercato di distruggere la Bibbia ma ringraziamo Dio che di Bibbia ne abbiamo perché Dio non l'ha mai permesso ma dobbiamo guardare le cose un po' in faccia e se noi li guardiamo dal punto di vista biblico della parola della parola di Dio noi supereremo le difficoltà lo scoraggiamento e quando passiamo per il deserto il deserto è necessario come fa Dio a forgiarti a prepararti a potenziare la tua vita se tu non passi per il deserto se tu se la sua presenza la sua vicinanza non si riduce al minimo di sopravvivenza come facciamo noi ai robustici come facciamo a crescere come facciamo a rafforzare il muscolo della fede se noi non passiamo per le prove se non passiamo per il deserto avere un'idea come un po' sta succedendo un po' nel mondo non dico tutto il mondo cristiano che dal momento che tu credi in Gesù tutto deve andare a posto il tuo conto corrente cresce avrai diamanti tante altre cose riceverai lasciamo stare guardiamo la realtà in faccia ogni credente ogni cristiano deve soffrire e soffre per il Vangelo per la croce per quello che è il messaggio del Vangelo perché la Bibbia dice che il mondo non ci è amico dice che il mondo è contrario infatti voi non siete del mondo non siete come quello del mondo la vostra mentalità non è come quella del mondo il mondo non vi può capire non vi può comprendere no? perché il mondo per la gente del mondo tutto passa sotto quel ponte ti puoi puoi fare tante cose eccetera eccetera se il mondo cioè è veramente un mondo al contrario però per molti va bene così questo mondo voglio dire al contrario tu puoi in un'esibizione vestita dal diavolo essere una satanista come è stata questa nell'Eurofestival Bambi Tag cioè manifesta veramente quello che è la tua cultura è quello che tu credi che manifestatamente dice che quando lei è ispirata per le sue canzoni fa dei sortileggi cioè l'opera demonica satanica cioè agisce in quello che diciamo di quello che il suo lavoro il canto è di alla persona che è vicino a te è giunto il momento di svegliarti è giunto il momento di svegliarci e di guardare la realtà per come insegna la scrittura è quello che dice la scrittura ecco perché Paolo dice godetevi tutto quello che è Cristo per voi ma state attenti che c'è un avversario che vuole togliere la pace la gioia la grazia questa benizione la sua estensione il fatto che siete figli di Dio che fate parte del suo popolo c'è qualcuno che vuole togliere e vuole rubare tutto questo perché l'avversario ci vuole fatti guerra vuole spaventarti vuole circondarti vuole perseguitarti vuole deprimerti vuole farti ammalare vuole distruggere il tuo matrimonio vuole distruggere la tua famiglia vuole farti vivere nella povertà nonostante ciò noi siamo ricchi in Cristo in Cristo Gesù vuole portarti lontano da Gesù perché quando sa che ci porta lontano da Gesù ci porta lontano dalla sua benizione lontano dalla sua dalla sua dalla sua protezione ecco perché la scrittura ci incoraggia a non essere distanti lontani da quello che era l'amore di Dio vuole farti vivere lontano dalla sua presenza vuole distratti affinché tu abbia una vita di preghiera se noi diciamo attentamente in Neemia se l'avete letto non l'avete letto ve lo ricordo io quindi Neemia va lì per ricostruire quelle mura ma non soltanto non ricostruisce solo le mura non metta protezione soltanto Gerusalemme ma il povero aveva perso l'identità aveva perso il rapporto con Dio aveva perso la legge non sapevano più che la scrittura insegna ma c'è stato un momento in cui l'incoraggia in questa opera che stava facendo ma se voi leggere attentamente l'opera di Neemia con i fratelli aveva un grande successo a un certo punto spunta San Baratti e Tobia e cercano di distrare Neemia e Zoe con sportendolo se salirà una volpe su quel mura cascherà tutto prenderli in giro perché voleva scoraggiare cosa l'opera delle mani di queste persone di questi credenti che stavano costruendo ricostruendo qualcosa la tua vita come la mia vita è una vita spirituale che va costruita va costruita giorno dopo giorno va costruita attraverso la scrittura attraverso la lettura attraverso la meditazione frequentando i culti frequentando le salate di insegnamento frequentando le cellule frequentando la chiesa e vivendo la chiesa perché vivere la chiesa è fondamentale ed è importante noi costruiamo la nostra vita costruiamo la nostra cristianità costruiamo robustiamo cioè il nostro cuore la nostra fede maturiamo piano piano e prendiamo spessore spirituale e le tue radici che sono le radici della tua fede della tua vita spirituale scendono in profondità devono scendere in profondità e prima ho detto che senza le prove senza le difficoltà questo non può succedere per questo Dio chiama Mosè ma prima che lo chiama era nel deserto quindi è stato formato preparato nel deserto prima di intraprendere un compito non soltanto lui per esempio Elia prima che fosse Elia cioè Dio lo chiama gli palla lo manda al torrente dove i corvi gli portavano da mangiare ma c'è un momento in cui acqua non ce n'era più quindi umilia lavora nella vita di questo giovane di questo uomo di questo profeta che ha scritto e c'era uno come te e come me ma imparò piano piano stando con la Bibbia stando con la parola stando in obbedienza a quello che era la legge quello che lui aveva noi abbiamo più di Elia noi ringraziamo Dio perché siamo nel nuovo parto abbiamo più comprensione abbiamo più parole abbiamo molto di più per noi il punto è che dobbiamo crescere non soltanto dobbiamo fare esperienza non soltanto di Dio basare io sento la presenza di Dio a volte non vi dico alcune cose perché non vorrei che mi giudicaste a volte il mio deserto dura per molto tempo il mio deserto molte volte dura per mese forse per anni e voi mi vedete prego presiedo faccio consulenza mi vedo sempre presente sono in chiesa e voi pensate a me ma a lui non ci succede mai niente me vorrei essere come a lui non te lo auguro non te lo auguro perché Dio sa la disperazione molto del mio cuore perché mi lasci in questa condizione perché mi fa non vivere ma sopravvivere perché perché Dio ha sempre qualcosa di insegnarci Dio ha sempre qualcosa che ci vuole dare perché in questa in questo testo dice vieni qua Giuseppe vieni dice vi dovete fortificare dovete cioè rafforzare la vostra vita perché siate saldi se no ogni piccolo vento che arriva boom casca a terra casca boom ora attenzione cascare qualche volta capita e succede a tutti tutti abbiamo una caduta tutti caschiamo ma Cristo nel suo amore ci rialza ma Cristo Dio vuole che noi siamo saldi che qualsiasi cosa viene scagliato contro Giuseppe spiritualmente parlando Giuseppe rimanga dritto rimanga fermo grazie nell'antico testamento c'è stato un momento in cui i filistei che erano acerimi nemici del popolo di Dio li attaccavano e gli bruciavano cioè i campi di grano e ci fu un momento che sono arrivati i filistei e tutti sono scappati ma la storia dice più di una volta ma uno in particolare che si chiamava Shamm che è rimasto lì piantato in quel campo i filistei sono arrivati uno contro tutti e dice la scrittura non è fisico è verità che li uccise tutti mi sembra che la scrittura dice che uno quanto ne abbatte e due parla di noi parla della chiesa parla della forza che Dio ha dato alla sua chiesa che ha dato al suo popolo ecco quando dice rafforzatevi fortificatevi questa storia è anche bella perché l'apostolo Paolo che scrive due preghiere che prega per la chiesa in modo che noi possiamo avere sapienza intelligenza e conosci più Cristo ci possiamo rafforzare nell'uomo interiore nella seconda preghiera alla fine dice pregate anche per me perché era uno come te come me nonostante lui dice io prego in ogni tempo piego le mie ginocchia ero un uomo come te e quindi non era lui un superman un super apostolo uno che era di sopra di tutti ma era uno come te come me che nell'umiltà chiedeva alla chiesa che potessero pregare per lui in modo che anche lui rimanesse dritto stabile fermo nel momento della prova quindi ripeto l'avversario non ti ama non ci ama ci odia e se ti potesse fare polpette lo farebbe ma la grazia di Dio se noi siamo ubbidienti se noi siamo fedeli se noi siamo sottomessi alla parola se noi spendiamo il tempo con Dio un credente lasciatemi lo dire non ve l'ho mai detto ma lo dico stasera ma minimo dovrebbe avere almeno un'ora al giorno tu dirai mi ma anche se ne avesse mezz'ora io vi dico ma anche se tutti i credenti ne avessero dieci minuti tempo di fermarsi e stare con Dio e stare con la parola attingere in questo pozzo che è senza un fondo che è meraviglioso la parola di Dio possiamo descriverla in tanti modi ma non sarà mai sufficiente per descrivere questa questa forza quindi lui non ti ama ti vuoi distruggere vuoi distruggere il tuo matrimonio vuoi distruggere il rapporto tra te e i tuoi figli vuoi creare la separazione nella chiesa ci vorrebbe mettere contrario l'uno verso l'altro perché dice stare alle insidie le insidie dell'avversario un insidio non è una cosa che tu riesci a vedere l'occhio subito nudo l'insidio è una cosa che entra si infila piano 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 che non te ne accorgi in molte circostanze le insidie sono state quelle che si sono presentate amorevolmente che si avrebbero prendere cura dei vecchietti li allisciavano un pochettino fino a quando poi si facevano fare là tutto quello che avevano e si era in realtà no e così e dopo che ha filmato arrivederci la tassina in televisione una non dico una nazionalità se no finisce che dipingiamo 700.000 euro si è portato e Poretto si è trovato nudo povero povero perché perché questa donna è stata insidiosa si è presentata non dicendo io sono un demone no perché mi sembra che la scrittura dice che Satana si veste di angelo di luce angelo di luce all'occhio nudo non te ne accoggi pensa che sia un Gabriele pensa che sia un arcangelo ma dice angelo di luce quindi quanto è importante che noi sviluppiamo un certo discernimento una certa sensibilità ma il discernimento della sensibilità si sviluppa se noi abbiamo relazione con la Bibbia abbiamo relazione con Dio quindi vado alla conclusione abbiamo un nemico abbiamo un avversario che non ci vuole bene che se ci trovasse che noi siamo a terra sanguinante e noi volessimo lo vedessimo e noi gli dicessimo abbi pietà di 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 me lui si avvicina ritendo e quando è vicino a te ti guarda negli occhi se fosse possibile perché la Bibbia dice se fosse possibile non sempre possibile per Giobbe lo è stato perché Dio glielo ha permesso e a volte noi siamo provati a volte siamo lottati a volte noi ne lamentiamo a volte ne prendiamo con noi stessi se ne prendiamo con il mondo se ne prendiamo con tutto quello che è attorno a noi perché non guardiamo le cose per come dovrebbero essere quindi Paolo dice Cristo è tutto questo per voi però dunque fortificate voi stessi prendete cura della vostra vita per resistere alle tutte insidie del diavolo concludo con una testimonianza Cristiana aveva partorito Martina Martina era piccola e Cristiana ha avuto un po' di depressione post parto io ero così spirituale che non riuscivo a capire uno è cristiano può avere un po' di depressione assolutamente no noi abbiamo Dio non è non è possibile non è possibile Spurgeon viveva un momento di grande depressione e non soltanto ho letto la storia di David Brinerd che visse 28 anni se non sbaglio 28 anni ha sviluppato un ministero verso gli indiani e viveva momenti di depressione che sta per morire e dice che questa depressione sulla sua famiglia è stata per 200 anni qualcuno direbbe ma è una maledizione generazionale non sempre maledizione generazionale a volte ci sono malattie a volte ci sono a volte dobbiamo capire comprendere ecco perché dobbiamo avere un discernimento quindi lei stava male non usciva e lì ho capito quando non volevo uscire dalla stanza da letto e questo che sto per raccontarvi mi è successo due volte in 38 anni di fede di cammino con Gesù che stavo dormendo e a un certo punto mi sveglio per la presenza demoniaca che sentivo nel sonno ma ho sognato che c'era una casa una carta pecca sapete queste case in campagna che sono distrutte senza detto ci mancano le finestre e c'era Cristiana con Martina in questa posizione in questa posizione erano disperati e il diavolo mi ha detto io distruggerò e ucciderò la tua famiglia e mi sveglio a Cristiana mi ha detto niente perché siccome lei già viveva in quella situazione non la volevo condizionare ma la Bibbia che cosa dice che il nostro combattimento non è contro carne è sangue parla di che cosa di un combattimento due pugili combattono e sono dove su un ring quindi si spidano o li dai o li prendi o reagisce o cappa o quindi o dai cioè o tu eserciti un'offensiva no altrimenti subisce quindi ho iniziato a pregare a digiunare per tre giorni fino a quando ho sentito che quella presenza demoniaca è scomparsa da casa mia e a Cristiana glielo ho detto dopo tempo molto tempo e so se vi intervistassi voi molti di voi dovete raccontare anche le vostre testimonianze ok ora dobbiamo realizzare capire e non soltanto ma dobbiamo essere formati discevolati a reagire quando ci troviamo in determinate situazioni quando prego Gesù lo ringrazio per la sua pace per il suo amore grazie che sei mio Dio sei mio padre la gratitudine è il mio cuore se ho bisogno di qualcosa dico signor ho bisogno di questo tu sei mio padre mi darai aspetto e chiedo se lo lodo lo lodo adoro ci sono diversi tipi di preghiera ma c'è un momento in cui dobbiamo avere la tuta mimetica e dobbiamo andare contro potestà e principale ed è quello che sto cercando con i vostri figli di questa classe di 20 ragazzi che sto da 8 mesi stando con lui piano piano grazie a Dio stanno avendo i risultati di aiutarli a discevolarli dicine mia lottate combattete per i vostri figli per la vostra famiglia e per tutto quello che è vostro è come se dicesse reclamate quello che Dio vi ha dato ora se l'avversario non ha nessuna stima per voi e nessun rispetto per noi voi pensate che noi dobbiamo avere rispetto verso di lui ora non che noi dobbiamo usare parole perché mi sembra che la cancello Michele disse ti sgridi Dio quando lottò per il colpo di Mosè ma ora vorrei fare un pochettino di pratica perché grazie a Dio e la riunione degli uomini abbiamo fatto un passo avanti che su una 60 non so quanto eravamo 30 sono riusciti a pregare quindi c'è stato qualche cosa di importante e io penso che la prossima volta sarà ancora di più però avrete anche voi la vostra pizza non so se adesso 9 10 di giugno e quindi anche voi vi potete esercitare quindi ora voglio chiedervi di alzarvi in piedi e se volete salire con me su ring a combattere li vogliamo dare o li vogliamo prendere vogliamo distruggere la roba del diavolo vogliamo andare contro l'inferno vogliamo andare contro queste potestà vogliamo andare contro queste principali vogliamo andare contro questi denominatori vogliamo lottare secondo i canoni e i principi biblici vogliamo grazie a tutti